Musica 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 Bravo! Bel passaggio! Dai! Vai! Solo tu e quella porta per la Sotto i vischi di tutti quando col tiro non va Con piccolari sciocchi Se bali si vede... Dai! Concentriamoci! Dai! Concentriamoci! Dai! Concentriamoci! Facciamo... Vieni quello di... Oh! Oh! E di là com'è? Un disastro! Un disastro! Va bene! Ma fegatele! Un disastro! Dai! Guarda che lui sta giocando eh! Guarda che lui sta giocando eh! Non mi far fare le battitacce Miriam! E questo è il linguaggio che non è la più grande di... Non mangiare! Non mangiare! Non mangiare! Non mangiare! Non mangiare! Un contrastro! Un auspettorso! Un auspettorso! avevamo preparato e organizzato fuori e purtroppo grazie io vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio anche per lo spirito di adattamento che avete perché il spirito io non chiediamo che il caso se la fatta fare hai ragione hai ragione lui è uno che legge dei pensieri no a mettere dei pensieri fai di cazzare che il padre è te ecco vi ringrazio vi ringrazio perché c'è un grosso regalo è proprio questo di essere qui insieme per i miei 50 anni 50 anni di un treguardo il primo treguardo importante e a pagare un saggio che sono mi sento dentro un trentenne un trentenne mi sono conosso di avermi qui alcune persone non sono potute venire anche dal pomeriggio speriamo che nel pomeriggio insomma adesso cerco di fare il bravo e di riconare e di ringrazio e un augurio a tutti e di un augurio 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 e lo dico io che lo conosco bene e non si preoccupate arriva per tutte siamo entrati voi ecco no lo dice lui perché è già provato eh ti stai passando vedi le braccia pubblica ciao 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 how ciao ciao Ma facciamosi ancora tanti auguri, dai, ancora tanti auguri. Dai, parola di me, ti faccio un po' adesso, dai. Parola di me, ti faccio un po' adesso, dai, ancora tanti auguri, dai, ancora tanti auguri, dai, ancora tanti auguri, dai, ancora tanti auguri, dai, ancora tanti auguri.